Sarebbe a rischio di cedimento il terreno su cui è collocata la condotta idrica che sabato scorso ha causato una colata di fango e detriti sul centro di Calatabiano. Operai dell'AMAM al lavoro questa mattina per testare la tenuta della condotta con una prima parziale erogazione di acqua. Se i test saranno positivi si procederà pian piano per ripristinare il regolare flusso da 1000 litri al secondo. Intanto la città di Messina, da sei giorni senza acqua, è in ginocchio, il servizio di Agata Cirelli. A Calatabiano in Contrada Piraino questa mattina è stata attivata una delle quattro pompe da 250 litri al secondo luna della condotta idrica che serve la città di Messina senza acqua da sei giorni. Dopo il guasto di sabato scorso che ha determinato la colata di fango e detriti sul centro storico di Calatabiano, sul luogo è presente un presidio per verificare che l'emissione di acqua non determini i cedimenti nel terreno. In assenza di criticità saranno attivate le altre tre pompe. Gli operai dell'AMAM hanno lavorato ogni giorno a ripristino del guasto alla condotta idrica il presunto scollamento del tubo. L'amministrazione comunale ha favorito i lavori con una deroga all'ordinanza sindacale di divieto di accesso. Numerosi sopralluoghi in Contrada Piraino sono stati effettuati, in presenza tra gli altri, della protezione civile. Ieri il tubo, vuoto, è stato saldato e riposizionato dove era collocato ed è stato osservato un cedimento del terreno pari a 15 centimetri. Il geologo Razio Caruso, consulente incaricato dall'amministrazione comunale, ha osservato il cedimento del terreno. La condotta idrica insiste su un'area inserita in zona R4-P4, nel PAI, il piano di assetto idrogeologico, in zona I, ovvero in uno spazio d'altissimo rischio idrogeologico. Questa mattina sono stati rimossi residui di fango e detriti ancora presenti in Contrada Piraino. Da giorni si lavora la pulizia delle strade, del centro cittadino, dei tombini, delle caditoie. Si teme per il peggioramento delle condizioni meteo, proibitive nel weekend. La protezione civile ieri ha indicato che occorrerà presidiare il comune e monitorare la situazione.